Sa, 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 salvo Lima, prova salvo Lima. Io ho accettato il lavoro per stare con te, perché c'eri tu, perché hai da una vita che ti... Reggo che tu da bambino volevi fare il giornalista. Dove stai andando? All'intervistare dalla chiesa. L'onorevole Andreotti dice che l'emergenza di criminalità è in Campania, è in Calabria. Generale, ha forse sbagliato regione? No, non capisci come funziona. Ti l'ho spiegato di nuovo. Se sente caldo, deve ammaccare questo, neve. Vede, neve. Se invece sente freddo, ammacca sole. Ma qualche giorno dopo Totorina capì come funziona un telecomando.